Ciao a tutti, mi chiamo Laura Strati, sono una ragazza di Cassola nella provincia di Vicenza, ho 30 anni, sono atleta della Nazionale di Atletica Leggera, nella mia carriera ho vinto 7 titoli italiani nel salto in lungo, ho partecipato a campionati mondiali europei e ora sono anche brand ambassador di Taupac. Io ho cominciato a entrare nel mondo Taupac circa un anno fa, a dicembre del 2019, perché allenandomi a Roma sono stata avvicinata da degli specialisti del Coni, i quali mi hanno proposto di utilizzare la tecnologia Taupac 4. All'inizio devo essere sincera, non capivo bene il funzionamento di questa piccola tecnologia e soprattutto non capivo come una cosa così piccola potesse esprigionare un potenziale così grande, però poi ho visto che l'azienda era comunque un'azienda giovane ma molto affidabile, la tecnologia comunque mi veniva proposta da un'istituzione importante in Italia come quella del Coni e ho deciso di provare e tuffarmi. Del resto, essendo un'atleta, sono abituata a provare nuove tecnologie sempre costantemente per il miglioramento della mia performance. Inoltre mi era stato detto che i risultati avuti su altri atleti erano stati ottimi, per cui ho detto proviamo. Adesso, dopo quasi un anno che porto i dispositivi applicati al mio corpo, ho capito le vali del funzionamento di questa tecnologia, ho capito come il mio corpo risponde agli input dati dai dispositivi Taupac Sport e sicuramente ho molta più consapevolezza rispetto a questa nuova tecnologia. Sicuramente l'azienda Taupac colpisce il fatto che nonostante sia un'azienda relativamente giovane sia cresciuta molto molto in fretta e soprattutto a me piace il fatto che abbia creato due linee, una per diciamo tra virgolette persone normali e una per noi sportivi e questo secondo me significa che alla base c'è una grandissima ricerca e una voglia di specializzarsi per soddisfare le richieste di più target gruppo di popolazione. Come atleta da quando uso i Taupac Sport ho sicuramente notato benefici in allenamento e dal punto di vista del riposo, che si sa per noi sportivi è fondamentale. In allenamento per esempio i carichi muscolari sono molto più equilibrati, ho più equilibrio nell'esecuzione dei movimenti e per quanto riguarda il riposo alla notte dormo meglio. Come persona invece ho sentito beneficio a livello intestinale, a livello di processo digestivo perché è sempre stato un mio punto debole in quanto ho sempre avuto una digestione molto lenta, un intestino abbastanza addormentato e quindi con il mio specialista Taupac abbiamo deciso di sfruttare la tecnologia per coprire quelle carenze energetiche nel mio corpo e la zona intestinale era una di queste. Io ritengo questo miglioramento del processo digestivo uno dei più grandi cambiamenti avuti e sperimentati da quando uso la tecnologia Taupac. Per quanto riguarda l'allenamento ho stabilito quest'anno i miei primati personali nella forza, quindi nella pesistica e anche nella velocità. Ai miei colleghi che mi chiedono informazioni e hanno dei dubbi magari sulla tecnologia Taupac e non sanno se iniziare o cosa fare, io dico sempre di non fermarsi all'apparenza perché una cosa così piccola può sorprenderti. Concludendo, sono molto contenta di aver interpreso questo nuovo cammino, ringrazio l'azienda Taupac e spero che tante altre persone seguiranno il mio esempio.